Amici del portapenne, ben ritrovati per un altro appuntamento relativo alla nostra passione, quella per lo scrittoio, lo stationery, quindi strumenti di scrittura, ma anche supporti, inchiostri, carte, quaderni e libri per scrivere e tutto quello che gira intorno a questo splendido mondo. Nel decidere di cosa parlare oggi con voi, beh sì, ho detto perché no? In definitiva il marchio, lo vedete subito, sia per la confezione di questo strumento che ho, che l'oggetto stesso tra le braccia del nostro mitico cavaliere, beh il marchio non ha bisogno di tante presentazioni, però è proprio per questo un marchio che divide gli appassionati, li divide perché non riesce a mettere d'accordo le opinioni in quanto si è acclarato che come brand è probabilmente il più prestigioso, più conosciuto, comunque quello che si trova spessissimo in boutique sia di cartoleria ma anche diciamo monomarca o da concessionari esclusivi, è anche vero che esso non sempre adesso viene riconosciuto, parliamo delle penne, risolviamo benissimo che Montblanc essendo un marchio del lusso spazia moltissimo dalla pelletteria di lusso ai profumi, agli accessori per l'abbigliamento e quant'altro, ma noi ci occupiamo di strumenti di scrittura e allora stavo dicendo non sempre l'utente, l'appassionato di appunto stationery, di scrittura, di stilografica in questo caso in maniera particolare, è unanime nell'assegnare a Montblanc il valore del listino attribuito, cioè il prezzo di acquisto richiesto per un oggetto. Allora parliamo nello specifico, poi vediamo di riaffermare qualche posizione anche contrastante, vi dirò il mio personale parere e anzi invito tutti voi se lo desiderate ad esprimere il vostro nei commenti perché sapete che è sempre apprezzabile quando il tono non è volutamente polemico ma qualunque opinione in merito è apprezzata insomma, anche se in contrasto magari con quello che può essere il mio pensiero o quello di altri utenti, quindi commentate, dite la vostra, parliamo del marchio Montblanc. Oggi vi presento la mia Montblanc stilografica, l'unica stilografica di questo marchio tedesco che ho, sono contento di averselo perché mi mancava, per me era diciamo un must have fino ad alcuni anni fa che non potevo neanche, al quale non avrei potuto neanche avvicinarmi. Allora, il modello di riferimento in questione oggi è una serie speciale della Montblanc Meister Stuck 145, diciamo il modello base della gamma Meister Stuck, quindi il capolavoro di maestria di Montblanc, diciamo un modello che parte molto, molto da lontano. Questa è una versione, chiamiamola speciale, un'ommage a Friedrich Chopin, vediamo questa, vi mostro solo la confezione, in realtà prendola qui è completamente vuota, però ve lo faccio vedere questo bel belluttino, qui sono coperti, c'era il posto per la documentazione e come vedete in questo riquadro che è vuoto, l'alloggiamento di un cd specifico dedicato a questa collezione di omage a Friedrich Chopin, qui c'era un cd, adesso qui solo volevo farvi vedere la scatola, era un po' una presentazione preliminare all'oggetto, la togliamo perché non ci interessa più di tanto, prendiamo in mano la nostra Meister Stuck, allora è una penna di dimensioni medie, non dico piccole, ma insomma medie non ha un fusto importante, se qualcuno ha come riferimento la 149, ecco questa è tutt'altra cosa, insomma una penna normalissima, come adesso se vi prendo, ecco giusto che ce l'ho qui sotto mano, la Visconti Rembrandt è già più cicciotta di fusto, se le dimensioni in lunghezza sono uguali, le dimensioni del fusto sono maggiori nella Rembrandt, che pure non è la penna più grossa di Visconti, anzi, quindi ecco, capiamo che abbiamo a che fare con una penna molto maneggevole, molto leggera e adatta anche ad un pubblico femminile, a chi ha mani piccole o sottili, è una penna che sostanzialmente può mettere d'accordo un vasto numero di appassionati perché si impugna facilmente, è una penna originale questo qui ve lo devo dire banalmente, insomma perché oggi sappiamo che al pari per esempio della orologeria, dell'alta orologeria, quanti sono i patacconi, li chiamo così, scusatemi senza offendere niente e nessuno, della Rolex per gli orologi, tante sono le patacche più o meno fatte bene i cinesi, le contraffazioni di Mont Blanc e per i meno esperti è anche difficile capire dove sta la differenza, al di là del fatto che difficilmente le contraffazioni di stilografiche Mont Blanc montano pennini in oro. la nostra Mont Blanc 145 Friedrich Chopin ha il classico il classico pennino in oro 14 carati vediamo se riesco a farvelo apprezzare meglio ma non lo so se ecco vedete 1410 4910 e il pennino è fine ed è un 14 carati lo vedete lì in basso l'attaccatura del pennino mi fa, adesso non l'ho mai misurato secondo me è un 4 come dimensione ricordiamoci che nelle stilografiche quando andiamo a definire pennino 6, pennino 8, pennino 5 non si parla mai della larghezza massima tra i due rebbi ma della larghezza dell'innesto del pennino nella sezione di scrittura quindi da come parte il pennino noi capiamo se è un 4, un 5, 6 io non ho mai preso il calibro non mi interessa neanche più di tanto farlo ma secondo me è più un 4 che un 5 quindi un pennino piccolo quella della nostra Mont Blanc 145 è una penna che si alimenta a cartuccia standard o converter converter ovviamente della casa personalizzato ci mancherebbe che non fosse così è un converter originale in dotazione io qui magari sbagliando all'epoca tolsi l'adesivo della misura del pennino lo applicai qua perché mi dava fastidio l'idea di lasciarlo attaccato al fusto perché non avevo nessuna intenzione e non ne ho neanche adesso di metterlo domani in vendita visto che comunque un full set si trova su ebay in vendita a 450 euro sono penne che penso abbiano 10-15 anni adesso più o meno l'epoca deve essere quella per il resto ecco Mont Blanc definisce questa come le altre serie normali di 145-146 realizzate in quella che appunto Mont Blanc definisce resina pregiata io non riesco a dirvi che cosa possa essere pregiato in questa resina sì senz'altro è una buona resina ma insomma si sente che si ha a che fare con una buona plastica ecco se loro dicono che è pregiata sarà pregiata ovviamente notiamo il dettaglio è uno dei primi ma insomma che la stella incastonata che è il logo tradizionale Mont Blanc sulle penne originali non è mai perfettamente allineata ed è evoluta questa cosa all'attaccatura della clips in questo caso abbiamo una metalleria in acciai scusatemi laminata in oro 24 carati il penino come detto è un penino 14 carati non è un penino flessibile è alimentato con appunto un alimentatore in ABS normalissimo il prezzo di listino beh più o meno un modello normale visto che questa qui che era un omaggio a Friedrich Chopin fa parte o faceva parte sostituita da mille altre di quella linea che Mont Blanc ha definito Donation Pen non è più in produzione poi facciamo una piccola parentesi per piegare che cosa servono queste Donation Pen quindi vi stavo dicendo che questa penna qui la 145 base ma sostanzialmente identica non credo che cambi qualcosa a livello estetico poi qualcuno mi smentirà e va bene così una 145 base modello base sta poco sotto i 700 euro di listino è giusto per capirci la linea Donation Pen che raggruppa anche penne molto più costose molto più belle ed elaborate è una trovata diciamo commerciale secondo me di Mont Blanc il cui obiettivo dichiarato è quello di devolvere per ogni strumento venduto 20 euro per ogni stilografica piuttosto che 10 euro per ogni roller o penna sfera a dei progetti culturali selezionati in questo caso quindi verosimilmente i progetti legati e sostenuti dalla vendita di questo sono progetti legati comunque allo sviluppo al sostegno di istituzioni musicali però ecco questo poi apre apre spazio per altre digressioni di cui non ci occupiamo più di tanto dicevamo vale i soldi scusatemi ho urtato il supporto della camera quindi vi chiedo scusa vale i soldi che costa eh dipende andiamo a vedere come scrive poi dopo facciamo qualche considerazione di questo tipo prendiamo come al solito adesso sto usando questo quadernetto comorebi di questa azienda questa azienda spagnola che produce in Cina la discreta carta non è niente di speciale ovviamente ho caricato la penna con un inchiostro originale della casa un royal blue classico di Montblanc un onesto un onesto inchiostro che non mi fa impazzire ma comunque tante allora stiamo stiamo dicendo facciamo una breve prova di scrittura andiamo a vedere come si comporta questa penna innanzitutto ricordiamo che siamo tutti su il portapenne allora perché uso volentieri questa carta per le prove perché in realtà non è una carta lavorata tanto quindi non è raffinata non è una carta liscia tipo Rodia o Clairefontaine non è neanche diciamo una carta per avvolgerci il pesce ecco insomma per dire una carta stilografica scarsa è un po' una via di mezzo per cui mette alla prova la maggior parte delle stilografiche dei pennini degli alimentatori e degli inchiostri per cui diciamo un buon test è un banco di prova per capire se scrive bene se vale non vale come si comporta allora la mia sensazione voi sapete ve l'ho detto se mi seguite da tempo non amo le penne con sezione troppo sottile però insomma per avere una Montblanc posso essere contento di una penna che con una sezione piuttosto sottile la penna è leggera sta tranquillamente nell'incavo della mano senza darmi quella sensazione di piacevolezza di impugnatura che possono avere penne con il fusto più importante ma dicevamo stiamo parlando di una Montblanc Meisterstuck anzi scusate che ho già sbagliato a scrivere Meister ma si non c'è Meister questa è una I vi chiedo scusa Meisterstuck con la dierasi sulla U aggiungo 145 omage a Federick Copen e la gradazione pennino è un f e il tutto è equipaggiato con un inchiostro con blanco ma la penna scrive abbastanza fluidamente non è un burro ma insomma vi ripeto la carta è quella che può mettere in crisi un pennino non ben lavorato vi devo dire di aver provato questo pennino anche appunto su carte più lisce lavorate come rhodia clairefontaine ho scritto con pennini migliori qualunque giapponese con pennino in oro 14 calati prendete una serie una pilot una platinum secondo me scrive meglio cioè vi dà più soddisfazione però la soddisfazione comunque di scrivere con una penna di un marchio incontrastatamente nobile come mont blanc può ben valere una sensazione in scrittura magari non così eccellente non perde vedete qualche però questa è la carta e ve lo ve lo ve lo ripeto questa questi vuoti non sono il pennino solo in chiosco è la carta che mette un pochino in crisi adesso non è in piano io cerco di farvi vedere ma insomma noi andiamo comunque a fare i classici esercizi sinistra destra destra sinistra dall'alto in basso vedete qualche vuoto c'è dal basso verso l'alto no insomma questa carta mette un po in crisi come dicevo penne e pennini e questo in crisi un pochino ci va però insomma fondamentalmente un buon pennino ecco dovrei farvelo vedere su un'altra carta ma penso di essere stato abbastanza esauriente farvi capire traete voi le vostre conclusioni la penna è stata lavata inchiostrata quindi non ha niente il pennino non ha niente l'alimentatore va tutto come deve andare la carta è un po quello che è il pennino un pochino va in crisi vale i soldi vale i 6 700 euro conferata nuova una 145 se vi interessa il marchio li vale perché diversamente dovete andare oltre i mille euro attorno ai mille euro per avere una 149 con un pennino più largo ma poi alla fine credo che i problemi o le virtù di questo pennino lo ritroverete anche su una penna più costosa il rolex tornando al parallelo con gli orologi è sicuramente il re in contrastato del mercato del nuovo dell'usato va detto che in quel mercato parlo del rolex ci si mutano anche persone che più orologeria o alta orologeria non capiscono più di tanto e non vogliono neanche approfondire più di tanto è un rolex tutti lo conoscono se prendo un patek philippe devo spiegare chi è patek philippe qual è la sua storia quali sono i suoi valori e allora non sto neanche lì prendo un orologio mantiene il valore magari lo compro 10 lo rivendo 15 o 20 e la gente la massa delle persone che magari si indebita anche per acquistare un rolex ragiona in questi termini parlo per cognizione di causa non per sentito dire quindi più o meno infatti alle debite proporzioni funziona alla stessa maniera per il marchio montblanc certo se andiamo su penne gioiello beh allora il discorso può cambiare considerevolmente però cambiano anche molto molto le cifre allora se vi volete togliere lo sfizio di avere una montblanc senza dover vendere un organo beh questa può essere una buona soluzione per il desiderio di poter dire ho in collezione una montblanc e va benissimo perché valorizza la vostra collezione se cercate la prestazione assoluta di scrittura sapete bene di potervi rivolgere che vi potrete rivolgere con maggiore soddisfazione ad altri produttori di certo un montblanc testa ogni sua penna ogni suo pennino a un servizio di assistenza post vendite assolutamente all'altezza del brand e vi può supportare per qualunque problematica che dovesse venire fuori anche dopo tempo ovviamente tutto questo a un costo siete disposti a sostenerlo la risposta può essere solo vostra il portapenne vi saluta e vi dà appuntamento ad una prossima occasione ciao amici